Conto alla rovescia per la riapertura del campo delle Iare a Pietrasanta, dal 1 ottobre lo storico impianto sportivo a due passi dal centro storico rinasce e torna ad ospitare un nuovo progetto sportivo, ma è anche pronto a riconquistare la sua centralità come punto di incontro e ritrovo per le famiglie di Pietrasanta e della Versilia. I lavori sono in corso. Al campo Iare si alleneranno e giocheranno stabilmente un centinaio tra bambini e ragazzi della scuola calcio dello Junior Sport, una delle realtà associative più attive sul territorio che finalmente può contare su un quartier generale dove portare avanti un progetto sportivo, educativo e sociale. Per la riapertura del campo delle Iare è stato fondamentale il contributo dell'amministrazione comunale per il rifacimento del manto erboso, così come importante è stato l'impegno e lo sforzo dello Junior Sport che ha rimesso a nuovo spogliatoio i locali riqualificando l'area esterna con una pulizia approfondita e realizzato un nuovo impianto di irrigazione. L'impianto, commenta l'assessore allo sport Cosci, tornerà presto a essere un polmone sportivo di Pietrasanta. Vi hanno infatti giocato in oltre 50 anni di storia intere generazioni di ragazzi che ne conservano ancora un bel ricordo. Altri finanziamenti sono di 460 mila euro per il nuovo pedonese, 400 mila per la pruniccia del prossimo bienio, poi finanziamenti anche per il campo di atletica e la cittadella dello sport nell'ambito dell'accordo con COP. Il progetto è stato infatti anticipato alcune settimane fa. L'amministrazione Giovannetti investe dunque sullo sport cittadino, considerato non solo uno strumento aggregativo molto potente per giovani e famiglie, ma anche in chiave turistica e in particolare nei periodi di bassa stagione. L'ultimo finanziamento ottenuto riguarda il campo di atletica, il progetto ottenuto 214 mila euro dal Bando Nazionale Sport e Periferie che consentiranno di rifare la pista di atletica. Infine c'è la cittadina dello sport che ospiterà lo stadio comunale e che sarà realizzata nel contesto dell'accordo con COP in via Unità d'Italia.